Ben trovati e benvenuti in questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura andiamo a Torino. È stato sospeso il Consiglio Comunale a causa di un allarme bomba a Palazzo Civico. È stata ritrovata una pila con dei fili. La busta che la conteneva era indirizzata alla sindaca Chiaro Appendino, che ricordiamo già da un mese viaggia sotto scorta, è stata nuovamente minacciata in occasione della manifestazione degli anarchici per le vie di Torino che protestavano contro lo sgombero dell'asilo che era diventato un centro sociale. Sabato durante il corteo di protesta per quello sgombero sui muri del cimitero erano apparse scritte minacciose, Appendino la scorta non ti basta. Sul posto oggi è arrivato anche il questore Francesco Messina. La busta è stata messa in sicurezza in attesa che gli artificieri la esaminino. Il Consiglio Comunale è quindi stato sospeso e rimandato. Rimanevo ancora a Torino per sempre il caso di cronaca in primo piano dell'omicidio di Stefano Leo, il giovane di Biella ucciso lo scorso febbraio ai murazzi. Saeed Moushat, 27 anni, si è consegnato ai grebinieri per questo omicidio, ha confessato che l'ho ucciso perché aveva un'aria felice, l'ho scelto perché appariva appunto felice. Il procuratore Paolo Borgna citando un brano del verbale ha detto un movente banale quanto terrificante. Ma sentiamo in questo servizio di Alessandra Della Capo. L'omicida di Stefano Leo, il 34enne originario di Biella, sgozzato a Torino in Rivalpò la mattina dello scorso 23 febbraio, ha un volto. È quello di Saeed Machuà, 27 anni, di origini marocchine, che poche ore fa si è costituito perché, ha detto, si sentiva braccato dai carabinieri e non voleva commettere altri guai. Il reo confesso non conosceva la vittima. Secondo i primi accertamenti, sembra che il fermato fosse depresso per la separazione dall'ex moglie. L'arma del delitto, un coltello da cucina nascosto in una cassetta dell'Enel e fatto ritrovare dal fermato, sarà inviata ai RIS di Parma per ulteriori accertamenti tecnici. La svolta nel delitto è avvenuta nella tarda serata di ieri in via Valfrè, negli uffici dell'arma, dove Machuà è stato portato dopo che si era presentato spontaneamente in questura. Quello in Rival Polo, ucciso io, ha spiegato in modo confuso agli agenti, che hanno subito allertato i carabinieri, titolari dell'indagine. Trasferito al comando provinciale, alla presenza del suo legale di fiducia, l'avvocato Basilio Foti, è iniziato l'interrogatorio, durato oltre tre ore. Restano molti punti da chiarire, a cominciare dal movente di un delitto tanto efferato quanto misterioso. E ancora cronaca, un fatto avvenuto nel luglio 2016, quasi tre anni fa, la procura archiviò come suicidio la morte di un ultra della Juventus che si chiamava Raffaello Bucci. La morte fu causata dalla caduta dal viadotto di Fossano. Adesso la sua salma è stata riesumata dal cimitero di Cuneo. Nell'ultimo anno la procura ha infatti aperto l'inchiesta ipotizzando l'istigazione al suicidio per far luce appunto sulla fine di questo ex collaboratore delle Juventus e secondo molti organi di stampa collaboratore anche dei servizi segreti. Raffaello Bucci pochi giorni prima era stato interrogato dalla procura di Torino per i rapporti tra Andrangheta e Ultra a chiedere di far luce sulla sua morte e che era stata inizialmente archiviata come suicidio è stata la compagna Gabriella. Oggi presso la camera mortuaria del cimitero che è rimasto chiuso fino a mezzogiorno è stata effettuata l'autopsia. La compagna di Bucci ha sempre sostenuto che qualcuno avesse obbligato o comunque indotto suo marito a buttarsi da quel ponte. La procura di Cuneo che ha autorizzato la risumazione ha aperto nei mesi scorsi un fascicolo a carico di ignoti per istigazione al suicidio. A effettuare l'autopsia è stata un'equipe coordinata dal medico legale turinese Roberto Testi e da Lorenzo Varetto. Adesso veniamo ad Alessandria non è stato possibile preparare il bilancio del Comune che scadeva ieri, il 31 marzo. Si è entrati quindi in esercizio provvisorio. La difficoltà deriva da quelli precedenti che erano stati giudicati sbagliati dalla Corte dei Conti e ha chiesto di correggerli. Non dovrebbero esserci rischi di commissariamento perché ci sono altri 30 giorni per trovare una soluzione. Ma sentiamo di più in questa storia. L'amministrazione comunale di Alessandria ha comunicato ufficialmente al prefetto Antonio Apruzzese che non è stato possibile presentare un bilancio definitivo entro la scadenza prevista di fine marzo. Da oggi quindi si entra in una fase che tecnicamente si chiama gestione provvisoria. Il problema è costituito da quei 46 milioni di euro derivanti dal dissesto che nessuno sa come iscrivere a bilancio. La Corte dei Conti aveva già avvertito che è dal 2012 che i conti vengono fatti in maniera non corretta e che non si possono quindi fare ulteriori bilanci se non si trova una soluzione al problema. In pratica, come ci conferma l'assessore al bilancio Cinzia Lumiera, non si tratta di soldi che il Comune deve pagare a qualcuno ma solo di una partita contabile da sistemare e per farlo si continuano gli incontri con la Corte dei Conti a Torino. Il prossimo confronto sarà questo giovedì. Saranno presenti lo stesso assessore Cinzia Lumiera con i suoi consulenti e tecnici amministrativi, una delegazione del Ministero dell'Interno che arriverà da Roma e i rappresentanti della Corte dei Conti. Un incontro si spera definitivo per poter chiarire come preparare i bilanci entro la prossima scadenza ordinaria che sarà il 30 aprile. Per quella data le basi per fare i calcoli dovranno essere definite. In ballo c'è il bilancio consuntivo 2018 ma anche quello preventivo del 2019. Fino a quel momento si resta in esercizio provvisorio il che vuol dire che non si potranno prendere provvedimenti straordinari. Ma come ci ha confermato l'assessore a bilancio per i prossimi 30 giorni non ci sarà nessun provvedimento straordinario urgente. Possiamo viverli con una certa tranquillità. E inizia oggi un nostro approfondimento dedicato al clima e ai mutamenti cui è sottoposto. Un argomento molto attuale. Il mondo intero è invitato a prendere delle decisioni su questo pianeta, sul pianeta Terra e a cercare di salvare quello che è ancora salvabile. Iniziamo un'analisi dei cambiamenti climatici dal punto di vista del meteo. Nelle prossime edizioni analizzeremo altri aspetti. Ma sentiamo Alessandro Della Campi. Il riscaldamento del mondo è globale e in Italia l'anno più caldo mai registrato dal 1800 è stato il 2018. Lo dicono gli esperti che segnalano un'impennata per lo più dopo il 1980 data oltre la quale i termometri hanno segnato in media mezzo grado in più per ogni decennio. E a farne le spese è stato soprattutto il nord. Il Piemonte rappresenta un po' quello che si dice un hotspot del cambiamento climatico e un po' tutto l'arco alpino rappresenta un'area particolare cioè un'area dove il cambiamento climatico si è mostrato in forma più importante rispetto al cambiamento che ha subito la Terra. In Piemonte, guardando le serie storiche possiamo dire che la temperatura è aumentata negli ultimi 60 anni, la temperatura massima di 2 gradi e la temperatura minima di circa un grado e mezzo. Questo riscaldamento si è manifestato soprattutto in montagna e soprattutto nella stagione estiva. Ma non è soltanto l'andamento medio della temperatura ad aumentare ma sono anche gli eventi estremi in particolare gli estremi positivi. E questi sono caratteristici delle stati calde in cui abbiamo le ondate di caldo che hanno un impatto molto importante sulla salute ma anche nelle stagioni tardo-autunnali quando per esempio l'innevamento tarda ad arrivare e si favoriscono le condizioni per lo sviluppo e la propagazione degli incendi boschivi. Meno pioggia, meno neve e meno riserva idrica sulle montagne con una preoccupante stima di incremento della siccità se l'uomo non ridurrà le emissioni di gas serra. Insieme a questo aumento di temperatura che ci attende abbiamo una diminuzione drastica della precipitazione estiva che risulta essere intorno a metà del secolo è stimata essere anche tra meno 35% e 50% nelle zone di pianura. E' questo un cambiamento mai affrontato dall'umanità e provocato dalle attività umane. Ed è causato dalle emissioni di gas serra che ormai hanno raggiunto le 400 parti per milioni e anzi diciamo stanno nel corso dell'intero anno al di sopra di tale valore. Questo si tratta di un valore che non è mai stato raggiunto negli ultimi 800 mila anni cioè il più elevato degli ultimi 800 mila anni. Cosa si può fare per contrastare il cambiamento climatico? Sicuramente ci vuole un'agenda politica basata su una visione a lungo termine che metta un po' al centro le generazioni future cioè si basi sul principio della sostenibilità nei confronti delle generazioni future e si assuma la responsabilità di lasciare ai giovani un mondo e le risorse naturali così come le conosciamo noi oggi.